Chi sono questi burattinai? Chi sono i vertici del cartello? Ovviamente nella mia inchiesta ho riportato tutti i nomi, i ruoli che hanno svolto e soprattutto quelle che sono le operazioni che hanno portato avanti in maniera congiunta. Quindi dove si sono poi intrecciati i destini di questi grandi burattinai? Vi faccio soltanto qualche nome che per lo più sarà sicuramente sconosciuto alla maggior parte di voi. Per esempio c'è un personaggio che si chiama Allen Dulles, che è stato direttore della CIA dal 1953 al 1961, è stato il più longevo direttore della CIA, oltre ad essere stato il primo direttore civile della CIA. Bene, questo Allen Dulles per esempio aveva un potere enorme. Perché aveva un potere enorme? Perché parallelamente suo fratello John Foster Dulles è stato segretario di Stato americano dal 1953 al 1959. Quindi per la prima volta nella storia due fratelli ricoprivano due ruoli ai vertici negli Stati Uniti, ruoli che solitamente devono controbilanciarsi, stiamo parlando del segretario di Stato americano e del direttore della CIA. Invece in quegli anni erano ricoperti addirittura da due fratelli, John Foster Dulles e Allen Dulles, che erano affiancati da tale William Donovan, detto William il selvaggio. William Donovan era il capo dell'OSS, Office of Strategic Services, ossia il precursore della CIA e nella OSS lavorava appunto Allen Dulles, Allen Dulles che tra l'altro era imparentato con David Rockefeller. Quindi immaginate il potere che avevano questi uomini avendo in mano la grande finanza statunitense con Rockefeller, avendo in mano i servizi segreti, avendo in mano l'OSS poi diventata la CIA e avendo in mano il segretario di Stato americano. Un potere enorme che loro utilizzeranno in maniera assolutamente spregiudicata. In funzione ovviamente anticomunista, erano degli anticomunisti viscerali, erano delle persone che erano disposte a tutto pur di imporre le proprie idee. Ed è quello che fecero. Pensate che Allen Dulles, io nei documenti dei segretati che ho analizzato nella mia inchiesta, l'ho ritrovato per esempio nei file in cui la CIA inveiva contro il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, per quello che stava facendo, il fatto che stesse portando l'Italia ad una sorta di indipendenza energetica, comunque stava lottando contro le sette sorelle, quindi Allen Dulles me lo ritrovo nei file che ho analizzato a proposito di Enrico Mattei. Ma lo stesso Allen Dulles io me lo ritrovo anche in degli incontri in Svizzera con Adriano Olivetti, che era stato convocato proprio da Allen Dulles, che addirittura, e qui vi dico qualcosa in anteprima che non avrete mai sentito prima, addirittura Adriano Olivetti per un periodo fu costretto a diventare agente di Dulles in funzione antifascista. Guarda caso, Olivetti morirà proprio durante un viaggio in treno in Svizzera, dove in quel periodo erano di stanza i servizi americani e Allen Dulles. Quindi mi sono trovato Dulles nei file su Enrico Mattei, me lo sono ritrovato nei file su Olivetti e me lo ritroverò nei file che riguardano Aldo Moro. Questo è per farvi capire che ci sono dei vertici della piramide, ci sono dei vertici nel cartello finanziario che non hanno assolutamente nulla a che vedere con quelli che invece sono stati i burattini utilizzati dai veri burattinai in Italia, come può essere Licio Gelli, come può essere Sindona, come può essere Calvi. Gli ultimi due hanno fatto una fine bruttissima, uno è stato trovato impiccato sotto un ponte di Londra, l'altro Sindona invece è stato avvelenato in un carcere di massima sicurezza, quindi chi poteva fargli bere un caffè avvelenato in un carcere di massima sicurezza? Soltanto i servizi, i servizi che ovviamente erano teleguidati dagli apparati anglo-americani, perché i nostri servizi... ... ... Grazie a tutti